Modore partito, quinta o sessa? Quinta. Antonio, quinta. Allora, questo corso di formazione di volta giovani che vogliono avviare nuove attività produttive serve soprattutto per tirare fuori le proprie attitudini e arrivare alla costruzione di un business plan che è il piano di impresa. Nel piano di impresa che questi ragazzi stanno costruendo si vengono a creare tutte quelle che sono le risorse positive di queste nuove aziende ovviamente che devono essere corroborate dai risultati che devono arrivare nel corso del tempo. Nell'ambito del nostro corso in particolare, fatto qui verso Soluzioni SRL e con il supporto dell'ente nazionale del microcreto e dell'ANPA abbiamo tirato fuori alcune figure molto molto particolari anche di livelli culturali completamente diversi che però ci hanno fatto capire che attraverso la formazione sia i livelli, diciamo da un punto di vista scolastico, di livello più basso che in quelli di livello di istruzione più elevato possa raggiungere tutti lo stesso obiettivo. Ed in particolare, essendo questa una realtà molto molto complicata perché la realtà campana è noto che da un punto di vista di sviluppo di impresa è un po' più arretrata rispetto a quello delle altre regioni d'Italia però abbiamo capito che ci sono dei risultati che si possono raggiungere estremamente importanti anche in persone che sono arrivate a questo corso in maniera scettica. Oggi sono persone concrete e sono convinte di quello che vogliono fare hanno costruito di piani di impresa eccezionali dove i numeri di questi piani di impresa dimostrano che gli attività imprenditoriali possono essere realizzati. Perfetto Cambiamo l'inquadratura Cambiamo l'equicola